Attenzione, 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 di Hank, di Hank, tiro, noo, 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 a scurabino gli amaci, il palo ha colpito il palo di Hank, ha colpito il palo, e mi sta ruotando e ce l'ha battuto, ha colpito il palo di Hank, ha colpito il palo da solo, il suo diagonale sul palo, Ed era battuto Vittor Valdés, ed era battuto, ed era battuto, Niang ha un palo, limite dell'area, attenzione, chiude la difesa del Milan, Niang ha colpito un palo, attenzione, ancora il Barcellone che recupera la palla, limite dell'area, Ness, gol, gol di Ness, gol di Messi, non è possibile, non è possibile, non è possibile, sbagliamo il gol e sull'ozione successiva mettiamo il secondo gol, ancora un chilo dal limite di Messi, non è possibile, non è possibile, e c'è chi gioisce, ma vi aspetto al barco poi, vi aspetto al barco e ti fate contro, va bene, ne prendiamo atto, ne prendiamo atto!